bella a tutti da porcomoz eccoci qua in questo nuovo parkourito con l'x70 proto non ho visto da chi è stato creato però qua abbiamo un bel dirigibile siamo sempre su ps5 che meraviglia che si chiama parkour pro raga andiamo da carlos volete bene si si andiamo andiamo belli veloci allora quanti c'è che sono 20 ok si iniziano un bel giù raga rimaniamo calmi e rilassati raga facciamo attenzione qui c'è il medino ci serve mettiamoci in traiettoria qua c'è la curvita olle 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 saltini leggermente pericolosi questi saltini eh dobbiamo fare aspettate ok bisogna saltare manteniamo un po' la visuale la stessa cosa di prima vero ah raga molto ma molto più veloci ci arrivi sì ok aspettate un attimo olle 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 allora qui cosa abbiamo toccato ma siamo vivi vero ah raga peccato dopo c'è l'equilibrio eh raga tosto sto parkourito di quelli super easy qua non credo troppo veloce infatti ah veloce ci proviamo eh no raga ultra veloci bisogna andare così vi dobbiamo fare però ce n'è un altro raga ce n'è un altro e senza check troppo troppo ah raga per chi per chi olle raga c'ho l'ansia a mille aspettate ok raga oggi sono un po' ansioso eh perché retromarcia c'è mi sta a dire che è tutto retro ah ci stanno i freni ok infatti sta a dire se no come faccio a fare manovra ok possiamo rigirare così eh sì eh ok ok allora qua teoricamente stanno i freni possiamo stare tranquilli olle 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 e olle ci proviamo a fare così eh ok ok delicati 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 perfetto così eh c'è un bel check che meraviglia che meraviglia proprio questo volevo stare registrato tutto ok la qui vediamo un po' la velocità raga ogni volta che mi rollo queste parti tutto ok perfetto così oh zitti non immaginavo che ce la potevo fare delicatissimi carina questa visuale così ce n'è un altro troppo tutto ok meno male che fa il contropeso wall c'è un altro mamma mia raga sei sì 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 allora da quello che ho capito wallride sì sì dobbiamo andare qua sopra che dita avrò messo qualche cambio raga non lo so un cambio me lo so chiamato che ovviamente sbaglio raga voi sapete che forse è la prima volta con l'X80 proto raga credo proprio di sì ricordiamoci che devo attaccare il cavetto raga prendiamo il prossimo check mettiamo il cavetto perché c'ho paura che si scarica vi saluta porco mozzo gts ma grazie molto gentile ok ah semplice cambio l'ha messo una cosa leggermente tosta raga perché oddio forse è proprio l'X80 che è tosta eh chiedi parkour X80 quanti ne abbiamo fatti raga non lo so cosa è carino miniatura mi devo sparare che miniatura bisogna spararla raga ok aiuto perfetto così aiaiaiaiaia allora vediamo un attimo i check 3G su 20 ora siete amici non vi è da richiesta perché su io raga allora andiamo oooole perfetto dai è tutto bello pulito che pareva raga devo andare un po' più piano qua eh voglio fare tutto con la massima pulizia devo fare questi errori assurdi ok ci siamo ci siamo questo è perfect un po' più veloci e poi dobbiamo andare semplicemente qui oooole driftiamo ha driftato ruota panoramica si oooole oooole no 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 sta nei collisioni là e chi lo sapeva che dove andare a 2000 raga pensavo dove andare sopra la casetta ok tranquillo ci riproviamo ci riproviamo ok più che altro cerchiamo a terra per la dritta x80 oooole perfetto la ferra è di qua bella l'x80 però speriamo che la fanno pure anche che seppur veloce quando è così quando non si vede niente è quasi sempre veloce perché è quel loop ok ok allora che abbiamo di carino ah diciamo che è iniziato bello tronso però adesso stanno molto 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 tranquillo ora vedrai che ci sarà qualcosa da impossibile ok meno male siamo riusciti a rigirarci bene così riusciamo a saltare qui ok dobbiamo andare qui qua non parliamo di raga ok rinuo questo tubo non mi diremmo di formare qui invece no è solo per bellezza ok meno male meno male ok oh bella la miniatura là raga ce la speriamo lì la miniatura tutto perfect sì perfetto raga respawniamo 8 minuti di parkour raga ah oh via sto parkour che cosa cacciottella di nostra produzione va bene c'è sto dicendo sto parkour c'ha tutte queste parti dove bisogna saltellare è uno non lo so credo pure qui eh meno male meno male di qua si è un po' più stretto ci entra ci entra tranquilli qua suppongo che si credo così aiuto nulla grazie direzione sbagliata veramente carino giocare così ok credo sia tutto ok possiamo andare tranquilli qua oh yeah raga non fateci caso stavo così per cascare oh mio dio ste parti stiamoci così ma qui è ancora più stretto ovviamente si è impigliato la lettone cosa non lo so no la lettone è impossibile raga finito dimmi di sì per favore sì 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 ok giriamoci olle non mi dica ne ha messo un altro che mamma mia c'ho paura facciamo così perfetto dobbiamo semplicemente salire c'è il check come sa vedo dalla minimappa un check raga vediamo se che meraviglia là qua abbiamo wallride oh cambia raga andiamo a vedere questo cambio stante con l'x80 no invece l'abbiamo usata come se l'abbiamo usata mi ricordo bravo ho fatto solo i chiodi a scendere se non mi sbaglio quella cara di miccia raga che si chiama era multiveicolo 99% impossibile olle perfetto ecco un mollica qua la miniatura raga guardate che meraviglia olle io direi di andarci a prendere questa bella prima posizione su un caulè comunque sia se vi è piaciuto questo parkour con l'x80 lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video bello inscrivetevi al canale Grazie a tutti.